Sì, siamo al quinto chilometro della Marcia della Pace, partita da Perugia intorno alle mezzanotte e un quarto, sono tante le persone che stanno marciando, noi siamo in questo momento a Ponte San Giovanni, ci sono centinaia di persone, circa 700 in un orario insolito perché questa è una marcia notturna per arrivare ad Assisi, una marcia che invoca la pace con uno striscione in testa che dice l'indifferenza è pericolosa, l'appello è quello a scendere in piazza per chiedere il prima possibile la fine dell'ostilità a un anno dall'invasione dell'Ucraina, intanto fanno proprie le parole di Papa Francesco che chiede alle istituzioni e chiede a tutti di fermare la guerra il prima possibile, noi continuiamo a seguire questa marcia che arriverà intorno alle 6 ad Assisi.